Oggi parliamo di esami scritti con domande a risposta aperta. Ci sono tre passi che devi seguire per riuscire a mettere in atto quella strategia specifica per questo tipo di esami che ti permette di rendere al meglio, di rendere il massimo. Ma prima di fare di questo e quindi prima di parlare di tutto ciò che riguarda questo argomento, voglio ricordarti che puoi richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari attraverso il link che trovi qui sotto in descrizione. È semplicissimo richiedere il corso, devi inserire il tuo nome e la tua mail. Riceverai tutti i contenuti del corso comodamente nelle mail che hai inserito. Cosa c'è presente nel corso, contenuti pratici, teorici, contenuti scaricabili, stampabili. Ci sono tantissime risorse che ti possono aiutare, quindi ti invito a provarlo. Non hai nulla da perdere appunto. Come ti dicevo, è gratuito. Tornando invece all'argomento del video di oggi, vediamo insieme la sigla e poi affrontiamo questi tre passi che sono essenziali per riuscire ad affrontare gli esami scritti con domanda a risposta aperta. Vediamo quindi insieme come riuscire a formulare bene le risposte delle domande d'esame, in modo particolare quando queste domande sono per iscritto e sono in forma aperta. Quindi non c'è solo la crocetta, ma dobbiamo proprio articolare la risposta. Questo processo si gestisce attraverso tre passi. Il primo è questo. Devi spiegare bene le informazioni. Quindi per rispondere correttamente a tutte le domande d'esame, devi focalizzarti sostanzialmente, senza complicare le cose troppo, su due aspetti. La forma e il contenuto. La forma si riferisce a come scrivi ciò che scrivi, quindi come vai a scrivere la risposta alla domanda, al plurale anche, le risposte alle domande. Il secondo aspetto è il contenuto. Cioè, ma alla fine, contenutisticamente, che cosa stai scrivendo? Le informazioni sono giuste oppure no? Vediamole uno alla volta, ciascuno di questi due elementi. Quindi il secondo passo, appunto, è fare attenzione alla forma, occhio alla forma. E quindi abbiamo detto prima che il come scrivi ciò che scrivi. Dobbiamo fare attenzione, numero uno, alla lunghezza della risposta. Devi considerare già a priori quanto più o meno deve essere lunga la risposta, in modo tale da poter includere tutte le informazioni che servono. Questo lo puoi tranquillamente vedere, per esempio, dal numero di righi che sono disponibili. all'interno del foglio, che devi andare a utilizzare per scrivere la risposta. O possibilmente hai, diciamo, un po' più libertà, perché magari puoi scrivere più e più folli, e quindi di conseguenza sarà molto più lunga la risposta potenziale, e devi quindi considerare anche una maggiore descrizione delle informazioni. Devi sostanzialmente riempire di più il foglio. Secondo aspetto. Dovresti chiederti, ho utilizzato i termini precisi? Quindi la terminologia è quella giusta o avrei dovuto utilizzare altri termini? Qui siamo andati a guardare non tanto al che cosa lo scriviamo, ma se quello che presentiamo è giusto. Quindi se la risposta è sufficientemente lunga o sufficientemente corta, questo andrà proprio a strutturare tutte le varie informazioni, se i termini sono quelli giusti, quindi sono pertinenti, la terminologia è corretta, e ho scritto in modo lineare, questa è un'altra domanda che dovresti porti, perché è importante non solo riportare la risposta, ma per esempio riportare tutti i concetti e più o meno spendere il giusto tempo per descriverli tutti, quindi magari evitare di descrivere i primi concetti in modo abbastanza approfondito e poi gli ultimi, magari con la fretta, spiegarli in modo troppo rapido, in modo troppo sommario e quindi superficiale. Questo è il secondo passo, fare attenzione alla forma, e quindi devi fare attenzione al come scrivi ciò che scrivi con questi tre elementi che ti ho appena descritto. Il terzo e ultimo passo è fare attenzione, quindi occhio, al contenuto, cioè al che cosa scrivi e come ti assicuri di poter riportare un contenuto corretto. Partiamo dal primo elemento, appunto, le informazioni sono corrette? Cioè, la risposta che sto dando è la risposta giusta alla domanda, perché possiamo scrivere in modo corretto, con terminologia giusta, considerando la lunghezza, considerando anche la linearità negli argomenti che sto esponendo, ma se le informazioni sono sbagliate ho sostanzialmente espresso perfettamente le cose, appunto, scorrette. Quindi devi fare attenzione, le informazioni devono essere corrette, e questo lo fai ovviamente studiando bene, prima dell'esame. Mancano, per caso, dei ragionamenti importanti che fanno sì che la spiegazione che sto riportando all'interno della domanda abbia un nesso logico e che questo nesso sia rispettato. Se cominci a spiegare un argomento, poi fai un salto su un altro argomento senza specificare perché c'è questo salto, o magari perché in realtà ti stai dimenticando un ragionamento nel mezzo che farebbe da collante tra le due parti, ecco, lì c'è qualcosa a cui devi fare attenzione. Quindi questo è un aspetto molto importante nel contenuto. Deve essere coerente, appunto, devono esserci tutti i ragionamenti che servono. E il terzo e ultimo elemento, che va a concludere l'importanza del contenuto, è riguardo le informazioni quando queste non sono necessarie. Quindi se ti trovi a dover fornire una risposta, e questa risposta magari include tutte le informazioni giuste, ma anche cose che non c'entrano molto, elimina le. Non ha senso creare confusione o aggiungere tanto perché vuoi aggiungere qualcosa. Tanto meglio, invece, dare una risposta leggermente più compatta, ma che sia perfettamente centrata su solo le informazioni corrette, come abbiamo visto all'inizio, nella prima sinistra, e solo le informazioni strettamente necessarie. Quindi questo è il modo in cui ti invito a ragionare quando devi formulare delle risposte in caso di domande, appunto, a risposta aperta. Sono questi tre passi. Devi fare attenzione in generale a dare una risposta corretta, e questa è corretta da un punto di vista della forma, quindi del come scriviamo ciò che scriviamo, e del contenuto, cioè del che cosa poi andiamo a riportare in termine pratico. Questo ovviamente poi in funzione dell'argomento che riguarda l'esame, e quindi gli argomenti che riguardano le domande. Se invece tu hai delle domande, o hai dei dubbi e bisogno di aiuto, non farti problemi a scrivere nella sezione dei commenti e nei contatti che trovi in descrizione. Io ti rinnovo l'invito a richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari. Ti ringrazio per il tuo tempo, per la tua attenzione, e ti aspetto con moltissimo piacere nel video che uscirà domani.